Sono un motoro in giallo E' un'altra cosa Non vedi, non vedi, non vedi Non vedi, non vedi, non vedi Oh, sono un copido Oh, sei speciale Oh, sei nì Che sono da modificare qua per 40 anni No, non vedi un braccio nì No, non vedi un braccio nì No, non vedi un braccio nì Ok, no, io vedi un braccio nì Non vedi un braccio nì Inoltre, non vedi E' un'altra cosa Oicca, questo metto l'accento E' unlo i pedale, sei un po' di loro Unlo i pedale, allora una coscia, sono di lozza E' un po' di loro Che voi metti ancora lì E' un po' di noi E' un po' di giù 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 A poco 12, Pio, potrei guidare 2 civili oi funziona, non sta lì, è parato oh Giovetta, te la cosa non te la ridiamo eh no, Giovetta non lo faccio, non lo faccio non lo faccio, non lo faccio sta parato, funziona, non sta lì o adesso mudirò oi funziona, però c'è un Giovetto buonai oh bro, ci facciamo noi abbiamo 2 Giovetta 15 ore, ora c'è la cosa va bene erano, è un Giovetta non ci non succede non ci sentiamo, non ci sentiamo non ci sentiamo, ci sentiamo ma tu, lui non si come si sente? che quello ne scelta? 20 cincara non ci sentiamo prima 20 cincara No, ma c'è lì il tue delle торze, non ci senti 25 euro non è buono un bracciato, un pio 25 euro non c'è bene a battere in buzio 25 euro 25 euro non c'è più 30 euro ma non c'è più 35 euro 28 euro 28 euro usate così non c'è più vogliamo farlo vediamoci ci facciamo ehi che ti gira? 5 euro 5 euro 50 euro ma lì c'è manco un fritto 5 euro il mio figlio è un po' di più non lo so 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 si è abbastanza stessa due donne chiamando amma mia è meglio ma vai a cucinare la macchina amico venga è una bicicletta è buona creature che non lo so è buona non si che non lo so non lo so non lo so non lo so ma lo so non lo so non lo so per questo è forte, è forte, è forte è forte, è forte